mi sembra che tutto va bene ora eh ecco ho messo a posto di tutta la cosa vi volevo far vedere il mio camion volete venite guarda io ho un camion che potrebbe sembrare un camion come tutti gli altri ma è più grosso di tutti i più grossi camion che c'è io dalle circolazioni dell'autostrato io vi volevo salutare sui cibi bamboni io comunque mi conosce guarda questa settimana sto portando eh questa settimana sto portando del latte in polpere guarda vieni 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 ciccio vieni guarda guarda questo è il mio camion se tu vuoi vedere guarda 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 c'è roba grossi guarda guarda questa qui è la pompa questa è la pompa questa la pompa per il caldo qui da caldo che c'ho io qui dentro questo è il caldo per la cabina questo questo qui c'è il caldo da qui entra e va dentro direttamente